Call, check or rest, check Ma Check, check Check con il set di Dragone, sempre slow però ragazzi Giochi sempre di rimessa, sempre slow play 4 cuori a tavola 600 Beh, 600 Facile gol per Baldassare adesso Invece sarebbe passato prima Probabilmente Eccolo là Tutto c'ha, scala, colore Primo, secondo, terzo al piatto Check, altro piattaccio di Dragone Sempre per questa mania dello slow 1.600 1.600, una buona puntata secondo me E lo va anche a vedere, guarda Call, call, call Mamma mia Veramente Fase di gioco inguardabile di Dragone Continua con questo insulso slow play Avevi una second pair in mano Con un 8 davanti Devi capire dove sei al tavolo Col 7 devi giocare Inutile continuare a fare questi check Queste cose non significano niente Mi innervosisco Aveva praticamente già vinto l'head Dragone ha fatto rientrare Baldassare Barbaro Altro call insulso con 9-6 Si va a infilare in un'altra mano 2.200 E alì Colin Machine, Dragone Ormai dentro con tutto Ha già la testa sul ceppo Vediamo se Secondo me Solo se fa l'imitazione Di un famoso Ispettore L'ispettore Culiandro Riuscirà a ribaltare la situazione Perché mi sembra già con la testa sul ceppo Per come sta giocando Vediamo però Sta giocando malissimo adesso Secondo me Scusami eh Dragone ma Ma call di cosa? Ma cosa call? Ma call che cosa? Ma come call? Ma come call? Check 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 1.500 Bet 1.500 Non c'ha avuto Baldassari La tempra Per spingere Solo che adesso Baldassari dice Vabbè ma che c'ha in mano? 3k 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 Ma è 3k? Però 3k Perché non ho mai fatto race prima? Perché non c'era un draw a tavola? Credibile 3k O asso qualcosa Credibile 3k secondo me Il problema è che a Baldassari basterebbe anche un 2 Grande call Baldassari Lo ha capito in pieno Baldassari Grande call di Baldassari Che sta veramente giocando un grandissimo heads up Check Check Ormai ti ha capito 5.500 Call Call Sbaglia le parole Se fa un call è un grande Baldassari vuol dire che gli ha dato dei tè al Dragone Perché stavolta io obiettivamente andrei via Questo bluff si è giocato bene Dragone Bravo Dragone Deve foldare Baldassari Secondo me era credibile il 3k Io non mi gioco mai un torneo su bluff Però Se fa un call è un grande Grande Baldassari Nettamente il più forte fino adesso Nettamente il più forte fino adesso L'ha letto bianco in pieno proprio Grandissimo Baldassari Grandissimo E tra l'altro Secondo me il ragionamento è stato questo Con i punti mi hai sempre giocato slow tu Perché mi vieni a spingere qua Perché mi spingi che hai sempre giocato slow i tuoi punti Sei in bluff Ecco la lettura Grande Baldassari Grandissimo Baldassari Dal punto di vista del gioco Considerate le carte che hanno avuto i due Ha dominato fino adesso Baldassari Bravissimo Grazie a tutti